La passeggiata a Portoscala, nuovamente devastata dalle intemperie del maltempo. I temporali di questi giorni hanno creato danni in tutto il napoletano. Non da meno la città di Torre del Greco, dove da giorni si concentrano piogge, talvolta forti e accompagnate dal vento. Nuovamente sotto l'occhio del ciclone è la passerella riservata alla passeggiata nella zona Portoscala. La forza delle onde è danneggiato il viale pedonale, martoriato ogni qualvolta si abbattono fenomeni meteorologici sostenuti. Pietruzze e massi costeggiano la strada a pochi passi dalla scogliera, dove anche in queste ore si stanno infragendo le onde alte. In molti tratti la ghiaia che crea il manto della passeggiata è sprofondata, lasciando visibile la struttura in acciaio. Intorno alla grata si sono formate buche molto profonde, in cui chiunque potrebbe inciampare o sprofondare. Si tratta di un evento ormai tristemente consueto e che si è verificato anche in altre occasioni. Una situazione che richiede delle giuste contromisure, per evitare che vengano a crearsi situazioni di pericolo anche per i più piccoli. Le giostre installate nel largo adiacente alla passeggiata, infatti, potrebbero costituire un pericolo di poco conto anche per i bambini.